Immaginate un palazzo di dieci piani che possa andare nello spazio e tornare sulla Terra senza nessun danno. Anzi no, immaginate due che fanno la stessa cosa in contemporanea. Ecco, queste immagini per me hanno un significato davvero particolare, perché hanno al loro interno il progresso tecnologico dell'uomo, un concetto di riutilizzo di economia circolare che nel settore aerospaziale non si era mai visto prima. Come tutte le ambizioni dell'esplorazione spaziale. Oppure ancora l'ultimo lancio con la navicella in fiamme, completamente avvolta dal plasma e da un calore pazzesco, però riesce a tornare sulla Terra. Prima di continuare con il video vi annuncio che è uscito un nuovo programma di corsi ideati da me da qui fino a settembre. Sono circa 5 corsi e il primo sarà il 22 giugno e parleremo di educazione finanziaria. Vi aiuterò a capire come si gestisce attentamente il vostro patrimonio. Non solo da un punto di vista di investimenti, ma anche di risparmio, gestione dei costi, aspetti previdenziali, assicurazioni. Un vero e proprio corso di 4 ore full immersion, dove vi dico su cosa stare attenti quando dovete affrontare la gestione del vostro patrimonio. I biglietti sono già live, ci sono dei biglietti in sconto e vi lascio tutti i link in descrizione per poter approfondire. Quindi mi raccomando, se siete interessati a migliorare la gestione del vostro portafoglio finanziario e patrimoniale, link in descrizione. Torniamo a noi. Questo e tanto altro è SpaceX, un'azienda che sta rivoluzionando l'intero settore aerospaziale con numerosi servizi. Tra cui ad esempio Starlink, che offre connessione internet in qualsiasi parte del mondo, anche la più remota, grazie ai suoi satelliti che circondano il pianeta. Oppure ancora il servizio di noleggio, praticamente, della sua navicella nei confronti della NASA per trasportare gli astronauti, appunto, dalla Terra alla Stazione Internazionale. Oppure ancora quello di lanciare satelliti per altre compagnie di telecomunicazione in giro per l'orbita terrestre. Un'azienda privata sta diventando sempre più importante in degli affari che, fino a poco tempo fa, erano esclusivamente governativi. E allora a questo punto potreste pensare, ma come faccio ad investire in questa azienda che potrebbe sembrare davvero promettente? Beh, cerco di darvi qualche risposta in questo video, anche se le cose sono più difficili di quanto sembrano. Ecco uno dei primi metodi. Diventare dipendente dell'azienda. In quanto in queste società è di frequente e solito utilizzare come remunerazione anche quello di concedere ai collaboratori una quota di azioni dell'azienda stessa. E quindi, lavorando per SpaceX, diventereste anche azionisti di SpaceX e quindi otterreste le vostre desiderate azioni. Ma se non avete una laurea in ingegneria aerospaziale, questo potrebbe diventare non poco complicato. E quindi, quali sono gli altri metodi? Beh, ce ne sono. Ma c'è un punto di contrasto in tutto ciò. E cioè che l'azienda non è pubblica. Cioè non è quotata nei mercati finanziari. Che sono l'intermediario che ci permette di accedere in maniera facile e conveniente alle azioni di qualsiasi azienda che noi vogliamo. Purché sia quotata nei mercati finanziari. Ecco, in questo caso SpaceX è un'azienda privata. Quindi non c'è questa facilità di scambio tra azionisti. Ci sono strade alternative per diventare azionisti di SpaceX. Ma non sono così semplici e oltretutto potrebbero essere molto costose. Perché richiedono un investimento iniziale abbastanza importante. E oltretutto in America per fare questo tipo di operazioni devi essere valutato come un investitore professionale. E quindi avere un reddito annuo almeno pari a 200.000 dollari. Oppure un patrimonio netto, escluso alla prima casa, al di sopra del milione di dollari. Situazioni patrimoniali non banali. Ma se siete tra questi fortunati, beh, allora potrebbe essere una strada percorribile quella di entrare in contatto con un private banker molto famoso oppure un family office molto strutturato. Perché abbiamo bisogno di questi professionisti? Perché hanno i contatti giusti? In queste immagini vedete un giovane Elon Musk che addirittura nel 2008 tentava i suoi primi lanci con i suoi razzi e presentava la sua squadra. Beh, man mano che cresceva SpaceX, entravano via via diversi investitori privati, business angel o diverse istituzioni finanziarie che pian piano fondavano SpaceX concedendogli soldi. E in cambio acquisivano azioni. Ecco, i contatti giusti sono proprio quelle persone che hanno avuto la lungimiranza o la fortuna di investire in un'azienda che dopo dieci anni sarebbe stata una delle più importanti nel campo aerospaziale. Il problema è che anche se trovi un investitore disponibile alla vendita di un pacchetto azionario SpaceX potrebbe non essere d'accordo a questa compravendita perché queste società tendono ad avere il controllo di chi può o non può diventare azionista perché è a tutti gli effetti una componente chiave del successo dell'azienda visto che molto spesso hanno anche un loro potere decisionale. Non sei come ad esempio in Microsoft che sei l'azionista tra i milioni di miliardi di azionisti in tutto il mondo. In quel caso lì la compagina azionaria può essere anche abbastanza ristretta e cambiare anche un solo singolo azionista potrebbe essere determinante. E quindi devi comunque avere il consenso di SpaceX. E molto spesso SpaceX ha azioni che hanno delle clausole di non compravendita quindi anche se trovi l'investitore giusto non è detto che la trattativa possa andare a buon fine. Un'alternativa potrebbe essere quella di entrare in dei veicoli di investimento che hanno investito proprio in SpaceX. In quel caso lì il controllo di SpaceX è molto più debole su chi può detenere la proprietà del veicolo finanziario che detiene le azioni di SpaceX e a quel punto potreste accedere molto più facilmente alla proprietà dell'azienda aerospaziale. Un'ulteriore opzione è andare su delle app di investimento specifiche per aziende non quotate oppure far parte di un'azienda di private equity che ha proprio il compito di investire in società che ancora non sono pubbliche e quindi non sono quotate nei mercati finanziari. Però anche qui stiamo parlando di costi di investimento molto importanti perché c'è da pagare l'azienda di private equity tutte le persone che lavorano affinché la trattativa possa andare a buon fine insomma anche qui stiamo parlando di patrimoni molto molto importanti. Quindi queste sono un po' le alternative se avete un patrimonio che vi permette di accedere direttamente all'interno di SpaceX. Se invece tutte queste opzioni non hanno funzionato oppure sei non troppo ricco da permetterti 100.000 euro di operazioni di investimento tutte in una volta allora ci sono altre alternative che magari non ti permettono di detenere in maniera diretta l'azione di SpaceX ma che comunque il tuo portafoglio potrebbe essere influenzato dall'andamento anche delle valutazioni di quell'azienda. Per esempio ci sono degli strumenti, dei fondi di investimento che sono proprio specifici nell'investire su determinate società che magari non sono completamente quotate. Una di queste ad esempio è BFGFX. Il patrimonio di questo fondo di investimento è costituito per il 9,5% proprio di SpaceX. Attenzione a non acquistare genericamente un fondo di investimento un ETF che ha a che fare col mondo dell'aerospazio quindi un fondo di investimento tematico proprio su questo settore perché è molto più frequente trovare questi strumenti ma che investono su società già quotate come ad esempio Boeing, Airbus, Lockheed Martin eccetera eccetera e quindi voi magari state pensando che all'interno del fondo sia presente anche SpaceX ma in realtà non è presente quindi state attenti a trovare quel fondo di investimento che abbia all'interno del suo patrimonio anche azioni di quella specifica azienda. Un'altra alternativa potrebbe essere la seguente che è una sorta di investimento indiretto e cioè invece di cercare di ottenere le azioni di SpaceX potreste investire in aziende che sono dei fornitori di SpaceX e in questo modo potreste ottenere una parte del vostro portafoglio che è comunque in maniera indiretta collegata agli andamenti dell'azione che voi vorreste investire ma che al momento è molto difficile raggiungere. Tra queste ad esempio troviamo Graham Corp che aiuta la produzione dei turbojet oppure quella di Hunting PLC che costruisce le gambe di atterraggio dei razzi di SpaceX. La logica dietro questo tipo di investimento è che se SpaceX diventerà sempre più importante e sempre più grande allora ne beneficeranno anche tutte queste aziende fornitrici dell'azienda primaria che è SpaceX. Un altro approccio anche qui sempre con una logica di investimento indiretto è quello di investire in aziende che hanno già investito diversi round all'interno di SpaceX. tra queste sono anche molto famose come Microsoft o Alphabet che hanno partecipato a dei round di investimento in SpaceX e quindi detengono all'interno del loro patrimonio aziendale anche delle quote in SpaceX e quindi questo potrebbe aiutarvi ad agganciarvi all'andamento del titolo finanziario dell'azienda produttrice di razzi spaziali. La parte critica di questo metodo di investimento è che però la detenzione delle società di SpaceX è solo una piccolissima parte dell'intero patrimonio enorme di Microsoft o di Alphabet e quindi non è detto che possiate ottenere i giusti rendimenti collegati all'andamento di SpaceX quindi non è detto che ci sia questa fonte di replica totalmente affidabile. Se tutte queste alternative che vi ho dato non hanno funzionato beh rimane un'ultima strada e cioè acquistare una maglietta di SpaceX dal banale costo di 30 dollari e così potrete sostenere la ricerca e sviluppo di questa azienda e contribuire anche voi alla ricerca spaziale di questa fantastica realtà statunitense. Spero di avervi aiutato in questo fantastico mondo vi ho raccontato alcune cose particolari e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!